Ci troviamo ora davanti alla casa o a una delle case che Caravaggio abitò quando arrivò a Roma intorno al 1592. Il numero 19 è stato identificato esattamente come la casa che il giurista Laerte o Laerzio Cherubini riuscirà a fare affittare a un costo relativamente concorrenziale nella Roma costosa e sovrappopolata dell'inizio del 1600 appunto a Caravaggio. In questa strada, in questa piccola via, a due passi dal palazzo dell'ambasciatore Fiorentino e dai nuovi grandi edifici che venivano realizzati per la benevolenza papale, Caravaggio abita in maniera meno disagiata di altre e proprio qui, probabilmente al secondo piano, Caravaggio allestisce il suo straordinario studio, un'incredibile novità per i tempi, una vera e propria, come sappiamo, camera oscura, geniale e dirompente. Una delle grandi novità che Caravaggio utilizza nel suo procedere d'arte è la creazione singolare di un atelier in tutto e per tutto simile a una camera oscura. In realtà non è una novità assoluta nel campo della storia dell'arte. Quando Caravaggio era allievo del pittore che pretendeva di essere un allievo di Tiziano, Simone Pedarzano, era probabilmente stato con il suo maestro a Venezia per vedere gli straordinari affreschi, per i tempi innovativi, trasciabolate di luce e lame d'oscurità, di Jacopo Robusti, detto Tintoretto, alla scuola di San Rocco. Proprio a Venezia Tintoretto aveva già creato una sorta di microteatro in cui, in un piccolo set ricostruito quasi in miniatura, figure in terracotta o cera con abiti di stoffa venivano utilizzate, guidando la luce, come modelli quasi, quasi come manichini. Ma Caravaggio fa qualcosa di più. Caravaggio in parte prendendo una suggestione, uno spunto di Leonardo, dipinge dal vero, utilizzando veri modelli. Si organizza una camera oscura dipingendo le pareti del suo studio di un colore bruno. Caravaggio dispone i modelli in posa. Quando sono pochi, in realtà, i personaggi in un quadro può lavorare in realtà direttamente con i modelli. Ma quando la scena comprende una grande folla, Caravaggio probabilmente procede per sovrapposizione, dipingendo prima i personaggi sullo sfondo e poi ponendone di nuovi in sedute successive, in sovrapposizione. La luce viene guidata da uno specchio lenticolare bombato, come una sorta di proiettore cinematografico. E Caravaggio riesce così, al meglio, a organizzare la scena. Probabilmente Caravaggio non utilizza disegni preparatori, ma dipinge in diretta e, per fare questo, non dipinge direttamente, ma usa, in realtà, incidere sulla preparazione ancora fresca della tela, con il retro del pennello, delle linee guida, che utilizza poi in maniera geniale, cambiando in corso d'opera l'intera creazione. Quasi tutte le tele di Caravaggio, che sono state intelligentemente studiate, mostrano esattamente queste straordinarie incisioni preparatorie, a luce radente. In realtà, prima di Caravaggio, un altro straordinario artista, letteralmente ossessionato dalla verità naturale e umana e dai trasalimenti dell'animo, era il grande Leonardo. E noi sappiamo per certo che Caravaggio era a sua volta ossessionato, letteralmente dominato dalla personalità di Leonardo, che, naturalmente, non aveva potuto conoscere, ma a Milano aveva costantemente dinanzi agli occhi le straordinarie figure del Cenacolo. Leonardo aveva prima realizzato una serie di studi su volti, alcuni addirittura caricaturali, poi aveva sempre più accentrato la sua attenzione sulle espressioni e sulla mimica facciale. E Caravaggio fa esattamente lo stesso, moti, trasalimenti e incredibili verità di volti, d'atteggiamenti, di pelle, probabilmente utilizzando anche modelli della grande pittura fiamminga, a lui perfettamente nota. Il Marchese Cavalletti aveva commissionato intorno al 1604 a Caravaggio un'opera che fosse per la sua cappella nella chiesa, dove ancora oggi è, di Sant'Agostino, a Roma. E una coppia di anziani pellegrini sono dinnanzi alla Vergine, accanto esattamente all'ingresso della sua portata dagli angeli, casa di Loreto. I due pellegrini, che hanno i piedi gonfi, dolenti e segnati dal lungo cammino e dalla polvere della strada, appaiono dinnanzi a noi nel loro sconcertante verità. Una Vergine che ha la grazia, ma anche l'imponenza quasi, di una statua classica, regge fra le braccia un bambino di sconcertante, di assolutamente rivoluzionaria, di genialmente innovativa verità. In realtà, quando noi affrontiamo questo quadro, abbiamo sempre nelle orecchie le frasi malevole del pittore e rivale Giovanni Baglione, che ci dice che i piedi nudi e gonfi dei pellegrini avevano suscitato scandalo e riprovazione. In realtà, questo è quello che noi crediamo sia accaduto. Dobbiamo ricordare che Caravaggio, dopo la morte, venne abilmente infangato da tutti, diremmo quasi, i nani pittorici, non all'altezza della sua titanica e dolente grandezza. Dunque, non abbiamo in realtà un contraddittorio di Caravaggio. Ci fanno credere le fonti che quei piedi siano stati sordidi e sporchi e abbiano suscitato riprovazione a Roma, cosa non vera assolutamente, perché è l'immagine prima e più straordinaria, più immediata della povertà evangelica, caratteristica dei pellegrini di allora. E per vedere come Caravaggio ambienta direttamente nella realtà e in fondo in un luogo a lui perfettamente familiare la scena, guardiamo con attenzione lo stipite dietro di me. Se guardate con attenzione, lo stipite, la parete, sono esattamente quelli che Caravaggio mette nella Madonna dei pellegrini, con un'incredibile verità, con una straordinaria perentorietà, una soglia non particolarmente prestigiosa di una casa neppur troppo nobiliare, appare come l'inserzione sconcertante di verità. In realtà a noi fa un effetto indubbiamente minore, ma dobbiamo pensare che per gli spettatori di allora, devoti o meno che fossero, vedere la riconoscibilissima porta di una dimora era qualcosa di sconcertante. Era il fatto che la Vergine, il bambino, i pellegrini non erano sospesi in una realtà ideale e incantata, ma vivevano qui e vivevano ora. La Roma di Caravaggio era dominata da arte assolutamente convenzionale. A Roma non si voleva in realtà se non decoro e nobiltà, decoro di rappresentazione e nobiltà di temi. La scena pittorica era dominata dal Cavaliere d'Arpino, un pittore, Giuseppe Cesari, che era stato freggiato da Papa Clemente VIII Aldo Brandini dell'altisonante titolo di Cavaliere di Cristo. A Roma dunque da una parte è convenzionalità assoluta e dall'altra alcune ricerche nei riguardi del vero, ma assolutamente schiacciate dalla grande convenzionalità e accademismo dell'arte. Due, erano le grandi accademie, le più importanti e potremmo dire le dominatrici allora, non soltanto a Roma, ma in Europa. Da una parte l'Accademia di San Luca di antichissima fondazione, addirittura risalente alla abilità pittorica dell'Evangelista, l'altra era esattamente questa che è alle nostre spalle, l'insigne artistica congregazione dei virtuosi del Pantheon, il cui motto Florent in domo domini era caratterizzato da un certo di narcisi e di rose, pennelli e scalpelli finissimi incrociati e un grande compasso di architetto. Era questa la sede dell'altra grande congregazione. Era molto difficile riuscire ad entrare in quella di San Luca, ma artisti stranieri spesso venivano ospitati come grandi guest star, diremmo, all'interno di questa. Lo sarà addirittura Diego da Silva Ivelasquez che farà il magnifico ritratto appunto a Papa Innocenzo X Panfili i membri della grande Accademia avevano la possibilità di esporre una volta all'anno le loro opere ma Caravaggio non appartiene né a quella di San Luca né all'Accademia dei Virtuosi del Pantheon e vive apparentemente ai limiti della società pittorica. All'inizio l'abbiamo detto è allievo di un pittore come Simone Pedarzano e arrivato poi a Roma probabilmente entra nella bottega di un pittore siciliano Lorenzo Carli di lì inizierà a lavorare come uno dei tanti ragazzi di bottega del Cavalier d'Arpino probabilmente utilizzato soltanto per nature morte o per dipingere con efficacia volti e corpi di santi. Sin dall'inizio dunque la straordinaria abilità di Caravaggio nel rendere il vero il reale viene sfruttata dai suoi maestri o dai committenti e Caravaggio proprio in quel periodo quando qualcuno gli ricorda che forse sarebbe meglio e più lucroso dipingere santi o scene religiose Caravaggio afferma in maniera dirompente e straordinariamente nuova che non ci vuole minore abilità a dipingere fiori e frutta che a dipingere capocce di santi non c'è più dunque alcuna gerarchia tra la pittura di storia e quella di storia sacra in particolare e la resa magnifica della realtà naturale o umana cade dunque ogni gerarchia di genere e i volti dei santi e la resa straordinaria della natura morta hanno la stessa qualità e la stessa valenza sicuramente Caravaggio sarà entrato in uno dei templi autentici del mondo romano e dell'arte allora era una chiesa la chiesa dei martiri in questo luogo straordinario e celeberrimo che già era utilizzato da Michelangelo come fonte spettacolare di ispirazione Michelangelo utilizza i nicchioni con timpano triangolare e tondo per realizzare le magnifiche finestre di Palazzo Farnese ebbene probabilmente Caravaggio è entrato anzi certamente è entrato in quel luogo che era la mattina un tempio della religione e dell'arte mentre il portico di notte ospitava sicuramente la vita trasgressiva e non esattamente presentabile di prostitute e cortigiane con buona pace di Dan Brown Raffaello non è morto a Urbino ma muore a Roma e viene sin dall'inizio unanimemente principe come è dell'arte tumulato all'interno del Pantheon qui Caravaggio aveva la possibilità di vedere opere scultore come la famosa Madonna del Sasso concepita da Lorenzetto un geniale scultore al servizio di Raffaello proprio per la sua tomba o avere addirittura una magnifica annunciazione di un secolo precedente di Melozzo da Forlì dunque per Caravaggio questo poteva essere il modo di vedere e toccare con mano arte romana suggestioni rinascimentali o protorinascimentali e scultura della prima stagione cinquecentesca è probabile che Caravaggio si sia ispirato a questo che vedeva e io credo che sia stata una delle sue tappe importanti a Roma per quanto Caravaggio non venga mai schiacciato dall'antico e sappia sempre rielaborare in maniera diretta e autentica le suggestioni pure quella che era una chiesa frequentatissima e un luogo d'arte deve averlo certamente ispirato in qualche maniera Nella Roma brutale violenta e non esattamente tranquilla né di giorno ma soprattutto di notte nel tempo di Caravaggio il modo migliore per riuscire a dirimere una questione d'onore o di donna era sempre questo ovvero utilizzare quella che era l'arma tradizionalmente impugnata da nobili aristocratici ma soprattutto dai tanti ex mercenari e soldati di ventura che quando si concludevano le tante guerre in Europa al servizio della Spagna perché soltanto al servizio della Spagna lottavano gli italiani poi affollavano le città europee e soprattutto quelle italiane alla fine del 1500 si era creata un'arma nuova più adatta per contese e cavalleresche si chiamava striscia gli spagnoli la chiamavano spada da abito civile e spada ropera dato che le armature non venivano già più utilizzate perché le armi da fuoco portatili avevano reso obsolete le vecchie piastre d'acciaio e di maglia di ferro la spada che era portata appunto con l'abito elegantemente civile era conformata in maniera particolare nonostante ciò che vediamo nei film nessuno impugnava la spada in questa maniera cioè con la mano che serrava i ritti dell'Elsa in realtà c'era sempre l'idea di mettere il dito a cappio intorno all'Elsa questo consentiva di guidare meglio una lama lunga e stretta non pesante e non richiedente l'uso di due mani come i vecchi spadoni del tardo medioevo ma dato che si portava con l'abito civile chiaramente non vera più la protezione di un guanto di maglia d'acciaio o di piastra di ferro dunque il dito vulnerabile poteva essere facilmente mozzato da un colpo di spada ecco perché si svilupparono dei rami supplementari creando così un'Elsa detta a gabbia o a cesto mentre gli spagnoli preferivano una sorta di tazza semisferica la coccia a coppa o a tazza che vedete in tanti film dei moschettieri come loro arma prediletta Caravaggio la porta al fianco ed è l'elemento caratteristico potremmo dire quasi l'indispensabile accessorio di ogni gentiluomo come noi portiamo tradizionalmente un cellulare o un palmare senza avvertire minimamente il peso o il corpo estraneo così era normale portare una spada brandeggiarla in realtà soltanto i ricchi soltanto coloro che avevano un porto d'armi e più volte Caravaggio è fermato perché quel porto d'armi pur milantandolo non lo ha ed è proprio con una spada come questa durante una tumultuosa serata del 28 maggio del 1606 che Caravaggio uccide più o meno involontariamente forse vuole soltanto brutalmente castrarlo il suo eterno rivale d'amore ma anche di predilezioni politiche uno scherano al servizio dei Farnese Ranuccio Tomassoni da Terni con cui duella dopo una tempestosa partita di pallacorda qualcosa a metà fra il tennis e lo squash esattamente lì davanti a noi dove adesso c'è un garage a via della pallacorda Caravaggio commette quell'omicidio che ne segnerà l'esistenza e l'animo per i pochi anni ancora a venire sarà proprio l'inizio di un'arte ancora più straziata e tormentata ma anche l'inizio della fine della sua esistenza ci piacerebbe pensare che l'onda lunga della straordinaria novità pittorica di Caravaggio letteralmente bruciata e riarsa dal suo incredibile interesse così moderno e così dirompente per il vero abbia cambiato in maniera indelebile le sorti della storia dell'arte ma non sarà così Caravaggio verrà ancora emulato ancora imitato più o meno diffusamente alcuni anni dopo la morte poi sarà completamente dimenticato vinto dall'arte tanto più banale convenzionale rassicurante dell'età barocca sarà riscoperto soltanto nel tardo ottocento e quella riscoperta continua ancora oggi non passa giorno che non si trovino documenti veri o presunti su Caravaggio e allora soltanto la sua dirompente novità giungerà fino a noi per concludere possiamo ricordare di Caravaggio quello che disse un grande poeta inglese Lord Alfred Tennyson e dire di lui quello che venne detto di altri che sembrarono per un attimo cambiare il mondo in un attimo scomparve come una scintilla improvvisa sorta in vano la notte poi tornò l'oscurità senza più speranza di luce grazie a tutti Grazie a tutti.